Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di moda.com Oggi abbiamo qui con noi sia Alessandra Dolce che Valentina Temporin che le abbiamo conosciute insomma nelle scorse puntate per Madima Izone e per Pop Lab Oggi perché sono qui assieme? In realtà ci parleranno di un progetto bellissimo sono un po' di parte di un progetto di moda non solo etica e sostenibile ma soprattutto inclusiva e quindi è una cosa un po' diversa rispetto a quello di cui abbiamo parlato sempre qui a moda.com e questo progetto si chiama Touche Project e nasce dall'idea di voi due insomma un po' la parte tecnica unita alla parte creativa possiamo dire così? Sì, certo Allora vi lascio un po' di tempo per presentare questo progetto Grazie Sì, allora Touche Project è un progetto di moda inclusiva per vedenti e non vedenti vuole far sì che i non vedenti possano conoscere i colori che indossano Nasce perché è un mio amico non vedente mi chiedeva spesso di accompagnarlo per negozi a cercare degli abiti e mi sono resa conto della mancanza di autonomia che hanno i non vedenti nella scelta devono sempre dipendere da qualcuno che gli dica ti sta bene questo colore piuttosto che un altro E avere un sacco di fiducia perché Esatto Sì, non si sa mai Se c'è un amico un po' simpatico può essere che ti fa anche uno scherzo E allora da lì è nata l'idea di usare il braille, l'alfabeto appunto che usano i non vedenti per scrivere sul tessuto Quindi abbiamo deciso di scrivere le sensazioni, l'esperienza che è legata a un colore e non il colore in sé perché il colore per un non vedente che non vede dalla nascita non sa che cos'è Non dice niente, esatto Quindi per questo nasce poi l'idea di indossare la tempesta piuttosto che il blu o il fuoco piuttosto che il rosso Che è una scelta non solo stilistica ma anche comunicativa perché voi l'avete poi riportata anche nei social, nel sito perché ricordo che su Instagram avete postato delle immagini in cui non era scritto semplicemente rosso ma voglio indossare il fuoco piuttosto che altri simboli Ma cosa vi ha portato dal progetto di moda, diciamo così fino alla parte comunicativa? Qual è lo studio che vi ha portato fino a lì? Beh, l'idea sicuramente quando io indosso qualcosa la mattina e scelgo un colore perché mi sento in un determinato modo quindi uso colori più freddi se mi sento un po' più triste o colori più sgargianti, più caldi se sto bene se voglio comunicare qualcosa di un'emozione più forte e allora pensando a chi non può scegliere i colori come non vedenti è nata proprio l'idea di affidarsi al tatto e quindi di scegliere, di scrivere il color fuoco di indossare il fuoco al posto del rosso e di indossare tempesta o mare al posto del blu Che poi pensandoci adesso, quindi la vista, il tatto cioè unire due sensi quindi anche a livello non solo appunto comunicativo di prodotto ma anche di esperienza per queste persone perché comunque non potendo vedere il colore possono comunque toccare il fuoco diciamo anche se non è il massimo Sì, perché appunto l'esperienza sulla pelle cioè essendo dei concetti colori per tutti noi è più difficile spiegarli che viverli sulla propria pelle quindi è facile sentire la pioggia sulla pelle o il calore che ti scalda il calore del sole Bello, bello, veramente cioè sarebbe uno studio da approfondire oltre, perché poi ci sono anche tutte le sfumature di colore quindi associare anche quello che può essere un'esperienza un'emozione ad una sfumatura forse anche più difficile rispetto a che è un colore saturo, un colore netto Noi per ora abbiamo scelto alcuni colori specifici ci siamo concentrati su bianco, nero e tre primari proprio perché abbiamo immaginato che raccontare le sfumature sia più difficile e complesso e in più, quindi lavorando su questi cinque colori questo ci ha consentito di abbinare ad ogni colore anche una tipologia di tessuto Ah, capito! Questo anche ci è sembrato interessante perché ogni tessuto ha una propria trama e anche a contatto parlavamo prima di tatto non è solo il toccare il braille per leggere questa emozione ma anche toccare il tessuto e anche il tessuto stesso ti dà una sensazione la lana ad esempio è associata al nero o la seta è associata al bianco e poi via via gli altri colori sono tutte garze molto pregiate con tessuti di alta qualità del territorio Ma e quindi, fatemi capire in questa stola ipoteticamente con un tessuto ricercato, insomma diverso per ogni colore e c'è anche stampato il braille come fate? Allora, diciamo che questo progetto nasce davvero in un territorio anfibio tra la tradizione del tessuto e della sartoria di Alessandra e il laboratorio di tecnologia nostro legato appunto a questi macchinari, eccetera però davvero l'idea di utilizzare la stampa 3D è nata da un'esigenza Infatti Alessandra ha incontrato più volte persone non vedenti e ipovedenti e le ha intervistate è uscito che, come per ogni scrittura anche il braille ha delle regole ben precise per cui decidere di applicare un linguaggio ad una sciarpa diventava complesso se questa applicazione fosse stata una perla o un ricavo perché il braille ha regole veramente esatte per cui anche un millimetro di distanza in più tra i vari puas o una dimensione diversa può confondere il non vedente nella lettura Da qui ci è venuta l'idea di associare il tessuto la trama di un tessuto abbastanza larga quindi sono tutte garze alla stampa 3D che chiaramente se in una macchina controllo numerico dà una risposta esatta quindi non ci sono, non c'è possibilità di errore per cui poi abbiamo anche testato e fatto leggere e la lettura è effettivamente agevole Ma ascoltate, quindi sono belli anche per chi non è ipovedente insomma, perché comunque c'è alla fine questo braille diventa un decoro Sì, diventa un decoro per chi appunto si ferma anche solo alla prima occhiata Sì, un po' tutti noi, nel senso che questa profondità noi a volte non ce l'abbiamo paradossalmente Sì, e se poi però vogliamo scoprire il progetto conosciamo i colori anche da un punto di vista diverso Che bello, veramente l'idea è proprio di avvicinare anche chi vede a questo mondo che è il braille, quindi quando indossiamo questa sciarpa ci ricordiamo in qualche modo o lo ricordiamo agli altri che non per tutti è così facile alzarsi al mattino e scegliere il colore del proprio abito Sì, sì, sì Quindi stimoliamo anche un po' di sensibilità e umanità in più che non fa mai male soprattutto di questi tempi Ascoltate, ma è stato difficile ricercare questa ricerca iniziale e anche penso poi una comunicazione a posteriori con questa fascia di target, di nicchia, se possiamo dire con queste difficoltà o è stato invece più facile perché comunque andavate a creare un prodotto che potesse aiutarli in qualche modo? È stato sicuramente stimolante c'è stato anche un po' di rivoluzione dei cliché della moda anche per esempio ricordavo prima Valentina dice abbiamo fatto toccare determinati tessuti e abbiamo collaborato con Luigi Di Mestre l'Unione Ciechi Italiani Di Mestre ad alcuni di loro e per esempio quando gli ho fatto toccare una determinata garza gli ho detto che sensazione ti dà questo tessuto e che colore ti ricorda è uscito fuori bianco ed elegante e di solito l'eleganza per noi è il nero quindi ti rivoluziona anche il... Beh in occidente diciamo forse in oriente è un po' diverso per noi occidentali è il nero quindi ti cambia anche il punto di vista di approccio al progetto è un mondo praticamente da scoprire attraverso il colore ma ultimissima domanda perché ci siamo dilungati un po' troppo anche se insomma c'era necessità in questo caso cosa sarà Touch Project in futuro? Allora Touch Project intanto... Scusatemi, mi sono fatta prendere dal pay off L'hai detto all'inizio? Esatto No ma voi avete un pay off che si chiama Touch the Color Ecco perché ero già alla domanda successiva ma non facciamo a tempo Beh adesso è un progetto nato da pochissimo già siamo arrivate finaliste al Treviso Creativity Week qualche mese fa e l'idea sarà di sviluppare una linea di abbigliamento quindi stiamo partendo dai full art per poi arrivare anche a una linea di abbigliamento cercare anche degli investitori quindi chissà che attraverso anche questa puntata di moda.com non troviamo qualcuno che vuole investire in questo bellissimo progetto tutto serve bene bene è tempo di salutarvi mi spiace ma spero di sentire ancora parlare di questo progetto e di voi soprattutto grazie per essere qui con noi per averci presentato touche project grazie ciao arrivederci grazie a tutti grazie a tutti